E' sabato ragazzi! Fra Simone che vuol farsi la barba? No, è la solita riunione del sabato con gli amici per giocare al Totip Fare un gioco tutti insieme è bello e se poi si vince è meglio Seconda corsa E al Totip si gioca tutto l'anno e si vince col 12, l'11 Ma anche col 10 E Totip paga subito, già il giorno dopo Totip felici e vincenti